Professore, perché Simone Veil e qual è il massaggio attuale che si trasmette alla società civile? Simone Veil è un'autrice che ha dato una testimonianza importantissima innanzitutto sulla necessità di tenere insieme il pensiero e l'azione e poi sulla necessità di affrontare i nodi importanti della vita sociale, il lavoro, la guerra, la politica e su questo ha detto delle cose molto interessanti andando molto controcorrente soprattutto criticando l'idea che il mondo debba andare secondo una legge di forza e gravità che sembra trascinare tutto verso il basso ha dato parole luminose che ci aiutano a riflettere molto bene anche sull'oggi E dicevo una figura mite in un contesto di individui forti, contestualmente un personaggio scomodo ci può essere scomodi e figure miti allo stesso tempo? Beh direi proprio di sì, anzi si è scomodi se si è figure miti perché il mondo va appunto secondo una direzione lei stessa diceva che nel mondo non c'è altra forza che la forza proprio per contrastare questa evidenza, questa legge naturale si deve essere miti Antigone è stata questa, Antigone non ha rivendicato un diritto contro un altro diritto ma ha rivendicato proprio la debolezza contro la forza il suo messaggio è quello dell'amore secondo Simon Veil e come Antigone ci sono tante altre testimonianze e anche Simon Veil è una testimonianza di questo è proprio un vero e proprio elogio dell'amitezza e direi della debolezza in un mondo in cui vige la forza e in cui siamo convinti che l'unica risposta a tutti i mali debba essere appunto una risposta che passa attraverso l'uso della forza Senta, come governare la paura nel dire la verità? Beh, nell'ultima grande opera di Simon Veil che si intitola La prima radice Simon Veil fa un lungo elenco di quali sono i doveri verso gli esseri umani e in questo contesto parla anche della verità e della giustizia insomma di ciò che gli uomini devono agli altri uomini la verità direi che è un elemento che sta alla base di tutto ciò che poi possiamo fare la verità è sempre scomoda e Simon Veil la diceva anche ai suoi compagni di battaglia lo diceva ai marxisti, ai sindacalisti, a tutti coloro con i quali ha combattuto ha avuto il coraggio anche di dirla per esempio quando partecipò alla guerra civile spagnola saper vedere le cose nel modo giusto e saperlo dire anche agli altri assumendosi anche oltre che la responsabilità le conseguenze del proprio dire la verità è un tessuto sociale che presenta ampie fasce di omertà ecco da questo punto di vista che suggerimenti senti di dare se poniamo l'accento ad un personaggio che comunque è stato un personaggio che amava la verità ed era un personaggio scomodo qui prima di assumere una percentuale di rischio nel dire un qualcosa se non si hanno delle protezioni alle spalle ci si pensa due volte questo è il contesto sociale come rivoluzionare? beh questa è una domanda veramente importante perché ci permette di riprendere un discorso che Simon Veil fa che io ho trattato anche nel mio libro che è quello della vera e della falsa grandezza perché c'è omertà? perché un tessuto sociale c'è omertà perché c'è paura sicuramente per quello si chiede protezione e in questo credo che sia legittimo il chiedere protezione alle istituzioni però c'è qualcosa che sta prima c'è omertà perché ci si rende conto che il contesto sociale attribuisce onore alle persone sbagliate alle persone di cui avere paura si attribuisce onore e quindi grandezza a queste persone allora se si cominciasse a ritirarsi da questo se si cominciasse a non ammirare la falsa grandezza quella che passa dalla forza, dalla violenza io credo che tutti cominceremmo ad essere meno omertosi cioè c'è una forma di omertà che non è solo quella di non dire quello che si è visto quello che si sa e così via ma c'è una forma di omertà che passa dall'attribuire onori e grandezza alle persone sbagliate ecco se cominciassimo a togliere questo consenso forse la civiltà overtosa finirebbe molto presto spesso anche nel suo intervento c'è stato un richiamo i duri fanno i forti e tolgono i muscoli con i deboli c'è una ricetta per un po' combattere queste condotte poco nobili beh quando ci sono i prepotenti, gli arroganti, i violenti bisogna cercare di fermarli su questo non c'è dubbio bisogna però superare l'illusione che il fermare la forza con la forza affinché si faccia il male sia sufficiente perché la forza è un qualcosa questo Simon Vello spiega molto bene la forza è un qualcosa che pietrifica le persone e ha un effetto di cosificazione possiamo dire che riguarda sia chi usa la forza sia chi la subisce bisogna andare oltre la forza bisogna cercare il modo di superare anche la forza come dire, quella dei violenti mettendo in atto qualche principio diverso e Simon Vello metteva in atto proprio questo principio che è quello dell'amitezza, della debolezza ci sono le modalità ora qui veramente sarebbe lungo parlare delle guerre di tutto quello che abbiamo sotto gli occhi ma ci sono tanti modi per contrastare la forza attraverso la debolezza sembra una follia sembra una cosa da autopisti e da illusi ma in realtà ci sono le modalità per fronteggiare i duri quelli che mostrano i muscoli con strumenti che non sono uguali e contrari perché ad un certo punto dice i magistrati devono anche poter guardare negli occhi gli individui sì, perché una giustizia che si occupa dell'uomo che si rivolge all'uomo deve guardare l'uomo negli occhi la benda della giustizia è un simbolo a cui ovviamente dobbiamo moltissimo perché indica l'idea di una giustizia che non si corrompe che non si fa corrompere di una giustizia che non fa preferenze e particolarismi però indica spesso una giustizia che decide meccanicamente che applica la regola in modo così formalistico senza guardare davvero alla realtà sulla quale quella regola la si sta applicando io uso spesso l'ho usata nel mio libro precedente l'idea lo chiamo modello un fiorino a seconda della situazione la regola è sempre la stessa la risposta è sempre la stessa e invece una giustizia che sa guardare che quindi sa togliersi la benda senza farsi corrompere senza particolarismi però sa capire davvero i bisogni e anche la realtà sulla quale sta giudicando e riesce a prendere anche la decisione migliore in quel contesto senta questa sera Aula Gremita cosa dici a chi viene ad ascoltarla e cosa dici anche agli studenti in ambito universitario qual è il messaggio forte che si sente di lanciare beh il messaggio è quello innanzitutto se vogliamo partire dalle tematiche di cui abbiamo parlato stasera è cercare di essere giusti con gli altri in ogni occasione perché poi è questo il vero tema la giustizia non è un qualcosa che riguarda solo i tribunali riguarda le situazioni nelle quali tutti i giorni viviamo e ci troviamo e ci relazioniamo con gli altri quindi questo è il messaggio di fondo e soprattutto essere convinti essere consapevoli che il modo in cui va il mondo dipende anche da noi nelle piccole e nelle grandi cose e che a volte appunto come dicevamo prima ci può essere la necessità di dire cose scomode di fare cose scomode ma che da questo dipende la sorte del mondo piccolo nel quale ci muovemo ma anche del mondo grande nel quale viviamo tutti insieme l'ultima battuta riguarda la sua vita il suo percorso di vita lei nasce a Caloveto è un uomo espressione di questa terra riesce a fare carriera è una persona abbastanza conosciuta quanto è difficile per un individuo espressione di questa terra poter barcamenarsi e di avere successo ma questo è difficile generalizzare le cose poi non si fanno mai da sole e si fanno perché si incontrano anche delle persone che ti aiutano io sono rimasto a Pisa perché ho incontrato mia moglie ho incontrato tanti amici che mi hanno anche aiutato a rimanere a rimanere in città nonostante la grande sofferenza che c'è sempre stata della lontananza della lontananza dalla terra a cui io continuo ad essere fortemente legato difficile fare carriera la carriera universitaria ha delle difficoltà che sono sue intrinseche quindi sono le difficoltà che abbiamo affrontato tutti però io credo che credendoci facendo le cose per bene lavorando bene insieme agli altri si possa ottenere qualsiasi risultato insomma io ho fatto una normalissima carriera universitaria e sono fra l'altro molto contento anche dell'ambiente in cui lavoro perché tante cose che si dicono spesso dell'accademia in realtà per fortuna non le vivo quotidianamente insomma vivo in serenità con i miei colleghi e lavoriamo concordemente grazie grazie